perché quando ci si lascia ci si lascia sempre male è perché tutti gli amori precedenti fanno più male di un mal di denti lei conosce delle coppie che si sono lasciate veramente male c'è un galateo per lasciarsi bene lei come si è lasciato con suo moglie non esiste ci si lascia sempre male sempre litiga sempre specialmente chi ha dei figli lasciare dei ragazzi dividersi per un niente sembra un'assurdità l'errore che fanno i separati quello di odiarsi cioè come nella guerra dei rosi che errore fanno io penso che tutto dipenda anche dalla propria indipendenza anche finanziaria perché questo permette all'uno all'altro di vivere degnamente oggi è impossibile il momento in cui questi ragazzi o questi signori si lasciano che cosa accade diti pazzeschi ammuzzico però che succede che succede se c'è vissuta che cosa succede quando vede una cosa che non va allora si arrabbi si lasciate sia la l'ha fidanzata lei ignorate io si bravo come mai si divorziano male non bene come mai non vanno d'accordo anche dopo il 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 divorzio perché non c'è più diciamo comprensione non c'è spirito diciamo come noi una volta avevamo anche facendo discussione con mania bella diciamo avevamo comprensione ogni volta che ti guardo io vorrei solo spaccarti la faccia e spaccamela sicuramente si sopportano fino all'estremo ma tu sei pelato come me si sopportano si sopportano fino alla fine poi non ce la fanno più e si litigano ma come si può entrare nella testa delle persone il nome di dio è la prima cosa che loro si devono insegnare è un prelato questo fa parte della civiltà di ognuno di noi ci sono persone civili che si lasciano bene persone civili che si lasciano male sottraggono i beni ma quello io non l'ho fatto non l'ho fatta bene sono di casi che hanno svuotato appartamenti nel giro di un giorno è vero ne ho anche io uno recentissimo ma non glielo posso dire troppo male sulla faccia della terra non si può vivere quale la preghiera tipo per esorcizzare il lascito la preghiera tipica non c'è uno può di si può sentire ciò che può vuol dire lui può dire un paderno san ave maria tutto va bene basta pregare perché hanno bisogno delle preghi due pluri divorziati questo è uno scoop per comoperte le norma sono molto felici e andate dall'avvocato di lui o di lei andiamo dall'avvocato suo è perché quest'ultimo separazione mi sta dando dei grossi problemi che cosa vuole cosa vuole niente ha preso tutto tu non avrai mai quella casa si vedrà le male parole dal suo compagno perché la donna si eccita a dire le male parole si il segreto è questo non ci sono altri segreti almeno i nostri poi non si può fare sesso fino a età inoltre l'amore no so dove sta lei non ce l'ha io ce l'ho quindi perché lei è rimasta vedova e continua a fare certo